Nato a Giulia Nova in provincia di Teramo il 14 maggio 1993, Francesco Bontà è un centrocampista dal fisico ben strutturato, capace sia in fase di interdizione che nella riproposizione della manovra potendo far leva su uno spiccato dinamismo e una naturale facilità di corsa. A soli 19 anni può già vantare nel suo curriculum oltre 40 presenze in Lega Pro. Bontà ha fatto tutta la trafila delle giovanili nel Giulia Nova, squadra abruzzese della sua città natale, sino a debutare in un'ancora maggiorenne in prima squadra collezionando 10 presenze in seconda divisione Lega Pro nella prima parte della stagione 2010-2011, poi conclusa in forza la primavera della regina che nel gennaio del 2011 l'ho acquistato in compartecipazione dallo stesso Giulia Nova acquisendo successivamente anche la seconda metà del suo cartellino. Nella scorsa stagione il 19enne centrocampista abruzzese ha fatto ritorno in prestito al Giulia Nova disputando da protagonista, un eccellente campionato in seconda divisione Lega Pro condito da 36 presenze e un gol. Molto positivo anche il suo inizio col Suttirol nel quale è stato uno dei migliori in campo, nel match di Coppa Italia Team Cup disputato allo stadio Braglia di Modena contro la locale Formazione Emiliana che milita in Serie B. Bontà è stato tesserato con la formula del prestito dalla regina.